I comici di stand-up comedy rispondono alle domande più ricercate sul web. Vai. Dai, eh. Da quest'anno do più regalo di compleanno. Io e mamma ci stiamo separando ed è solo colpa tua. Adesso hai due mamme. Non farà domande. Non esiste. C'è 40 anni che sei deficiente. Hai presente Dio? Così. Ma Babbo Natale esisteva. È morto. Fagli fare la fila alle poste. Con il plastico di Bruno Vespa. Uccidetelo. Un giorno morirai anche tu. Cannibalismo canonizzato. È inutile ma ti fanno tanti regali. Ti vestono da deficiente per mangiare la parte meno buona della torta. Che ridicolo, però ti regalano un sacco di oro che poi da grande ti rivendi. È inutile ma ti fanno i bravi alle poste. Non è inutile ma ti fanno i vis seti regali. Non è inutile ma ti fanno la Forbes educated, reckovano i ragazzi.